Ancora brutte notizie in casa Miran, si ferma anche Okafor, infortunio alla coscia e quindi salterà la sfida con la Fiorentina. Il calciatore svizzero sarà rivalutato tra una settimana per vedere l'entità dell'infortunio, per valutarlo e vedere il sostituto naturale dello squalificato Giroud, quindi ora in attacco per Pioli e emergenza totale. Infatti contro la Fiorentina il tridente doveva essere Cukvez, Pulisic o Okafor, invece a questo punto si affiderà al serbo Jovic per sostituire Olivier Giroud, che è stato espulso nell'ultima gara di campionato a Lecce e che è stato squalificato per due giornate, quindi salterà sia la partita con la Fiorentina ma anche quella successiva. A questo punto gli infortuni in casa Miran sono tantissimi, oltre a Leao c'è ora anche Okafor, Kalulu, rientrano sì Calabria e Pulisic, c'è l'Obsucic da valutare e molto probabilmente rientrerà contro il Borussia Dortmund martedì in Champions League, però a questo punto il problema infortuni in casa Miran è molto serio. L'infortunio di Okafor va a penalizzare un reparto d'attacco che ha già tanti calciatori fuori, oltre a Giroud squalificato e quindi ora contro la Fiorentina è emergenza totale.